ipnosi eccoci qui di nuovo tra pochissimo vedrete delle clip di una ragazza normale ipnotizzata via webcam ma prima di tutto grazie quasi 90.000 persone hanno visto il mio video precedente 9 più 3 segreti dell'ipnosi che non sai e che gli ipnotisti non vogliono che tu sappia che chiarisce preconcetti gli errori sull'ipnosi e i tipi di ipnosi o non ipnosi delle cose strane che addirittura assurde che circolano non solo in italia ma un paio sono solo fenomeni italiani poi chiacchieriamo dopo le clip riguarda i vostri commenti altri dubbi sull'ipnosi che voglio chiarire ma prima delle clip la sigla Zio Hack dal 1998 il numero 1 del miglioramento personale underground ora senti tra poco quando ti dirò 3 quando arriverò all'1 e dirò la parolina magica solletico sentirai solletico sulle parti del corpo dove sei più sensibile solletico 3 2 1 solletico senti che diventa più intenso solletico solletico e dormi solletico si ferma e istantaneamente vai a fondo piacere cento volte più intenso piacere solletico solletico ogni volta i comandi diventano più intensi più immediati solletico e piacere 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 dormi piacere scompare istantaneamente ti rilassi ti abbandoni ecco adesso conterrà da 3 a 1 e all'1 il tuo sedere sarà completamente agganciato, appoggiato a dove sei come se ci fosse una colla magica sotto che più ti sforzi di muoverlo e più diventa dura e ti trattiene sul posto 3, 2, 1 il tuo sedere è completamente incollato, completamente bloccato prova ad alzarti e nota cosa succede adesso? prova, prova, più provi e più noti come rimane completamente bloccato e incollato, prova, sforzati, impegnati non riesco neanche a mettere in posizione le gambe per alzarmi molto bene sono talmente le mie cose idee molto bene quando aprirai gli occhi tra poco davanti a te in cam ci sarà il tuo attore preferito qual è il tuo attore preferito? il tuo personaggio pubblico preferito? Brad Pitt ci sarà Brad Pitt bello come il sole e ti sentirai imbarazzata inibita davanti a lui però farai il possibile per sedurlo apri gli occhi davanti a te c'è Brad Pitt ciao Isabella ciao Brad com'è il mio italiano? beh diciamo che lo possiamo migliorare insieme ah bene Isabella bene e come come pensi che potremmo fare per migliorarlo? beh sicuramente dovremmo vederci più spesso perché beh ci stiamo vedendo Isabella mi vedi? mi vederci nel senso incontrarci perché poi devo farti le lezioni e devono essere anche delle cose scritte non solo non deve essere una lezione verbale ma anche scritta quindi abbiamo bisogno di vederci perché tu di italiano che cosa sai per il momento? sai i verbi, le coniugazioni, cosa sai? si 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 tutto dormi istantaneamente, automaticamente permetti che accada e dormi quando aprirai gli occhi Brad Pitt sarà dieci volte più bello noterai che non ha su la maglietta è sexy come mai e tu sarai completamente disinibita spudorata ti sentirai bellissima, sexy e farai il possibile per conquistarlo 3, 2, 1 apri gli occhi oh ti ho perso per un attimo Isabella tutto bene? si ci sono ho lavorato un po' su mi sono allenato un po' ti piace il risultato? eh Brad sei perfetto grazie, grazie ma non te lo devo dire io cioè nel senso che anche tu Isabella è qualcosa che già tu sai sei molto bello Isabella grazie tu diciamo che non sei bello, bellissimo sei proprio un dio cioè dovremmo un attimino capire se insieme possiamo fare il dio e la dea perché ebbè certo e cosa faresti se ci incontrassimo? se ci incontrassimo sicuramente andremo al mare al mare? si si molto bene bloccati istantaneamente automaticamente dormi sempre più a fondo dieci volte più a fondo ok visto il video ecco avrete notato che la ragazza non è straordinariamente espressiva no? altre volte lo sono vedi il video più visto sul mio canale quello di di Carmela cercate una playlist di ipnosi altre volte semplicemente non lo sono è personale altre volte lo diventano praticando con l'allenamento ipnotico eccetera questo è importante lo vedremo poi nel secondo punto adesso non trattiamo 5.000 punti dei commenti dei passanti brevemente no? comunque è quello che nella vita reale troverete e dovrete aspettarvi quindi se vi aspettate quelle reazioni che vedete nel video di certi ipnotisti di ragazzi wow all over the place come si dice in inglese quello accade se uno ne ipnotizza 20 non so 9 non riesce e poi scegliere la più espressiva ma altrimenti se uno sceglie di avere l'abilità di ipnotizzare chiunque abbia davanti in qualunque caso a vari livelli sicuramente poi nel corso precedente che trovate ancora chi si iscriverà nell'area file gratuitamente perché scollegati non hanno senso è così comunque vediamo il commento numero 1 che c'è tra i miei non clienti sono scettico sull'ipnosi ecco essere scettici sull'ipnosi è un po' sciocco viste le minchiate in cui io per primo ho creduto per tanto tempo e non elenco altre per non offendere nessuno ma sono nel mio podcast che ha contenuti esclusivi che non trovate qui su youtube ovviamente su youtube trovate video c'è appunto una puntata dedicata a tutte le alcune no tutte devo fare devo fare un'intervista di dieci ore però le cavolate ho creduto quindi l'ipnosi è riconosciuta dalla scienza infatti ci sono forse più ricerche sull'ipnosi che sulla mindfulness è insegnata nell'università e persino anche i più scettici sia negli Stati Uniti che in Italia al CICAP la riconosce e vendeva anche il CICAP i libretti di Matteo Lampin sono usciti dal catalogo spero che rientro perché li voglio leggere e invece non riconosce ad esempio la PNL per vari motivi sono il primo a scrivere della PNL però quelli che fanno il marketing la PNL non è scientifica non è scientifica ti fanno 3000 short ma vuol dire che questi non hanno visto neanche un video di uno dei cofondatori Richard Bandler perché ogni due conferenze lo dice guardate che la PNL non è scientifica attenzione questo non significa che non contenga tecniche validate scientificamente tant'è vero che molte tecniche sono incorporate nell'acte nell'upset e commit and therapy poi citano il bello che questa gente non sa neanche cos'è la PNL perché cita delle cose di cui non fa parte la PNL per poi vendervi dei corsi di strategie che sono simili al modeling della PNL dicendo il modeling non funziona non funziona non funziona per sapere se qualcosa non funziona o non funziona bisogna mettersi lì fare un esperimento e vedere se per te ha funzionato meno con i giusti parametri con le persone giuste con tutte le regole e infine appunto l'ipnosi ampiamente usata in psicoterapia come alcune parti a PNL spesso da psicoterapeuti che imparano come tecniche cognitiviste che probabilmente lo erano anche prima della PNL non sai cos'è secondo me buttare via tutto quello che c'è di una disciplina come il linguaggio di precisione soprattutto quando è articolata in fasi diverse infatti io quando le insegnavo insegnavo la PNL su se stessi quella sugli altri quella persuasiva che oggi secondo me è un po' obsoleta però diciamo che insegnavo le stesse cose che poi sono uscite nel libro ad esempio sulla negoziazione dei negoziatori dell'FBI eccetera io le insegnavo molti anni prima che uscissero questi libri che comunque apprezzo anzi Chris Vosco che l'ha scritto aveva anche commentato sul mio vecchio Instagram che poi per qualche ragione meta mi ha chiuso non è neanche meta allora non ha mai chiarito che cosa e quindi non lo so e infine tutta la parte linguistica non conoscere almeno una base del linguaggio di precisione di psicolinguistica del metamodello magari un Milton Model può essere anche visto come obsoleto però non conoscerlo proprio secondo me non essersi letto neanche un libro da gente che dice di studiare così tanto e poi non ti dice neanche quanti libri ha letto dall'inizio alla fine dell'anno io nel 2021 ne ho letti 77 li ho messi su quest'anno se andate nel mio canale Telegram trovate mano a mano che leggo un libro faccio un breve commento audio singoli libri se no me li dimentico a fine anno poi a fine anno farò il solito post ma non è per non è per vantarsi che se uno segue qualcuno deve sapere la sua base cognitiva non sono mai chiari eh sì perché io leggo un pezzo qui un pezzo lì ma quello è pericoloso perché vuol dire che se uno scrittore inizia con l'antitesi presentando una posizione opposta tu leggi solo un pezzo pensi che la sua posizione sia quella cioè non è il modo di studiare non è un modo serio insomma questa gente che si propina così seria sono non so a me sembrano più pagliacci di me che sono un pagliaccio dichiarato quindi andiamo avanti ecco l'altro commento che non è sul video che vi ho detto con i 90.000 ma è sull'altro con Carmela recita ecco come detto l'espressività è soggettiva e Carmela è da tutti gli effetti è un'attrice non so a che livello non la conosco così bene però è più difficile insegnare recitare così che semplicemente ipnotizzarle ecco vorrei dire come si dice un'ora e metterle in trans ogni istanto mi scappa ma in realtà la trans hanno visto che non è diversa cerebralmente da uno stato di rilassamento di relax e quindi la parte importante dell'ipnosi è la quiescenza poi nel corso l'ho spiegato bene comportamentale che l'altra persona faccia quello che dici al punto che poi inizia a produrre fenomeni non volontari come l'allucinazione di ipnosi eccetera che vedrete in questo video allora nel video dimostro il mio modello unico al mondo vorrei precisare c'è una bibliografia nella puntata precedente un'altra del blog che trovate sotto nei link però quella bibliografia è per dirvi vabbè cosa leggo dell'ipnosi in realtà quali sono libri di ipnoterapia che potete fare solo legalmente se siete psicoterapeuti poi guardate la mia live perché i miei clienti mi hanno fatto domande che erano prevalentemente i miei clienti quindi sopra tutto il resto sul resto ecco qui presento il mio modello e come settare correttamente quello che si chiama il pre-frame anche lì se non avete studiato la PNL non sapete neanche cos'è un pre-frame il mindset poi lo traducete in modo sbagliato in stati mentali invece punto di vista l'atteggiamento come inquadrare inquadrare la cornice di una situazione molto importante tant'è vero che quello scrittore della persuasione Robert Cialdini ci ha fatto anche un secondo libro come impostare l'obiettivo quindi come far domanda alla persona per decidere come impostare la sessione il contratto ipnotico in questo caso l'ho fatto implicito più delle volte lo faccio esplicito chi ha studiato sa cosa sono e poi la cosa più importante come bloccare le interferenze prima che accada se si spegne la connessione in webcam cosa fate come vedrete la risposta di compliance perfetta poi nel manuale dove c'è tutta la trascrizione ci sono anche le mie note che spiegano quello che faccio per non fare un secondo video che diventerebbe noioso in cui spiego tutto quello che faccio anche perché qualcuno ha detto ma guarda c'è gente che studia vent'anni e te vuoi insegnare l'ipnosi in due ore sì perché non insegno l'ipnoterapia che richiede tanti anni insegno a ipnotizzare ipnotizzare è semplice è disipnotizzare diceva Gurgios che è difficile di cui non sono né un fan né uno seguace preciso però il punto è che veramente ipnotizzare è proprio facile spesso non serve neanche l'induzione per cui ne basta una istantanea ecco ovviamente in questo video vedrete un tipo di induzione rapida ma adatta alla webcam quindi non posso fare un'induzione istantanea shock da tre secondi in un video di questo tipo quindi vedrete l'approfonditore vari approfonditori come contare con il raddoppio vari frazionamenti ovvero uscite entrate uscite entrate dallo stato coso varie suggestioni come ecco il mio metodo unico di rilassamento usando un mantra che non ha niente a che fare con l'indoismo con lo yoga e tutto il resto ma semplicemente una frasetta e il coso poi un po' di test nascosti perché io insegno ipnosi senza fallire o minimizzando il fallimento il modo giusto è testare prima in modo nascosto un fenomeno e poi farlo in modo esplicito mi spiace che chi ha scelto l'eclip non abbia messo qualcosa con le braccia stese qualche catalessi rigida ma non ha importanza appunto come testare nascosto da catalessi vedremo un test nascosto di allucinazione e poi dei test espliciti proprio di catalessi morbida sedere incollato che c'era nelle clip braccio incollato gambe incollate vedete come lo faccio come lo imposto come lo gestisco l'installazione dei vari trigger ipnotici ne installo molti tra cui il classico dormi bloccati un trigger di congelamento e ipno bondage il bondage senza bisogno di corde e cose che è molto più comodo come condizionare questi trigger che è molto importante per la parte chiave nel condizionamento operativo schineriano di queste cose non pavloviano schineriano ma anche se volete un po' pavloviano il frazionamento appunto e poi inizio la blisnosi la blisnosi e l'ipnosi con sensazioni piacevole a cui a lei ho chiesto il consenso ovviamente installo il trigger piacevole lo piacere piacere lo amplifico creo una compliance automatica è una cosa che nessuno vi spiega cioè fare sì che lei si autopremia ogni volta che esegue quello che chiedo mostro un pochino di position training ovviamente ne ho parlato nelle HNA sul sesso ovviamente in questo contesto non sessuale però mostro che cos'è faccio dei test nascosti di amnesia nascosti di allucinazioni e poi passo dalla blisnosi all'inizio molto pacato di ipnosi ipnosi erotica e quindi mostro come indurre una tra virgolette non un orgasmo ipnotico ma non dico cos'è quindi nel manuale spiegato bene tutto il coso perché non va detto eccetera eccetera uso spesso il contrasto cioè una cosa importante è l'ipnosi anche lì spiegata il coso mostro l'ubriacatura ipnotica induco sensazioni fisiche di vario tipo avrete visto qualcosina nella clip e poi un'allucinazione visiva l'avete vista nella clip quella dell'attore preferito poi emergo la persona in modo corretto questo è importante riemergere dall'ipnosi poi faccio il follow up che è la parte più importante per migliorarci e ricerco anche il feedback negativo perché se mi devo migliorare come ipnotista devo sapere che cosa a lei non è piaciuto anche perché con l'esperienza di un po' di persone uno impara che cosa piace non piace cosa fare e non fare ecco e infine c'è una mia routine esclusiva segreta l'ho inventata io al mondo non ce l'ha nessun altro che è l'esplosione d'amore che è simile all'orgasmo ipnotico ma più romantico quindi a molte piace di più ecco vi mostro anche il mio trucco segreto esclusivo solo io lo faccio per condizionare far sì che lei stessa condizioni la sua ipnosi e il suo piacere senza che io faccia nessuna fatica senza che la riveda e questo seduttivamente è molto utile perché mi hanno chiesto poi sentitevi la live come usare l'ipnosi cosa possiamo fare la possiamo usare sui nostri partner per sedurre eccetera eccetera quindi ho raggiunto l'obiettivo quindi lei a un certo punto mi spiace che dice che ha avuto quello che tecnicamente si chiamano immagini eidetiche quindi allucinazione vere viste come i suoi occhi e non immaginate come nei sogni tutti noi le possiamo avere in meditazione molti pensano che sono grandi rivelazioni in meditazione in realtà è un fenomeno naturale quindi guardatevi la cia chiedi allo zio hack zero con le domande dei clienti guardatevi il video precedente 9 più segreti dell'ipnosi che non sai che gli ipnotisti non vogliono che tu sappia così facciamo salire anche le views ma non è quella la parte importante è che voi dovete chiarirvi se non sapete niente di ipnosi vi posso far risparmiare migliaia e migliaia di euro informazioni solo guardando quel video vi dico che cosa non fare poi andate dove volete ci sono anche altri corsi validi ovviamente però ce ne sono anche di assurdi inutili che circolano non solo in Italia sotto all'articolo trovate il link per le informazioni trovate il link sulla mia community come entrare che è la più longeva dal novembre 2007 sopravvissuta la più numerosa anche sì ho guardato almeno in quelle dove sono entrato io che sono quelle di un certo poi ci saranno quelle super economiche eccetera ed è anche appunto la più antica in Italia al novembre 2007 e cos'altro devo fare non lo so devo tirarmi fuori la spada di frodo dal culo avete delle belle pretese comunque questa è un po' più dolorosa di quella precedente ma eccola qua a Pungolo e con questo vi saluto